L'Australia aggiorna la lista delle organizzazioni terroristiche, aggiungendovi la libanese Hezbollah di matrice islamica e la statunitense The Base, che riunisce militanti suprematisti di estrema destra. The Base, insieme a un altro, è il solo gruppo di destra incluso nella lista del governo di Canberra, mentre le altre 25 organizzazioni presenti sono tutte di ispirazione islamica.